e domani trovate questo video su youtube vi vedete salvo a scambinato con le anno Anthony e anche su facebook se volete dopo passate da me vendito i bigliettini è la mia pagina facebook io accetto tutti perché lo uso soltanto per l'amore si e come tutti i video che giro inquadro le mie figlie la mia vita non è che sono Anthony che lo voglio incontrare ciao